Si sarebbero aggiunti quattro indagati e alcune nuove contestazioni all'inchiesta che avrebbe unito Sanità e Politica e che ormai sembrerebbe essersi avviata verso il processo. Parliamo dello scandalo in cui fu arrestato, ed è ancora oggi agli arresti domiciliari, l'ex senatore d'assessore regionale Totò Ruggeri. Il PM della Procura di Lecce, Alessandro Prontera, ha chiuso le indagini nei confronti di 24 persone. Nell'ordinanza di custodia cautelare dello scorso 7 luglio, a firma del GIP Simona Panzera, erano riportati nomi di 20 persone. Ad aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ora sarebbero in 24. Le indagini sono state condotte dai finanzieri di Otranto, le accuse genericamente riassunte, raccontando di un giro di corruzione per ottenere l'assunzione nella Sanità, nelle aziende private, nell'Arneo ed anche per favorire l'accreditamento di società nel sistema sanitario. Ci sono ipotesi di corruzione elettorale. Poi ci sarebbero anche altre questioni, come i presunti favori per l'assunzione del figlio del direttore generale dell'ASD, Rodolfo Rollo, dimessosi dopo la notifica dell'avviso di garanzia e ancora in attesa di conoscere la decisione della giudice Panzera sull'applicazione o meno della misura della sospensione dell'incarico. Quanto a Pentinelli e Caridi, i due amministratori avrebbero prodotto in favore dello stesso Ruggeri un atto falso interno alla procedura di autorizzazione in violazione delle linee guida regionali per il ripristino dell'arenile nell'Ido Atlantis, collocato in zona Porto Clauro, di proprietà dello stesso Ruggeri. Una new entry, la questione ARPAL, è rassicurazioni fornite a un concorrente, che secondo quanto asserito avrebbe potuto superare il concorso pagando 8.000 euro, che sarebbero stati effettivamente consegnati. Infine l'ipotesi di corruzione per l'autorizzazione ambientale di un impianto in cambio, sempre di un'assunzione.